Chiostro Sant'Angelo ha ospitato questa mattina la conferenza per stilare il bilancio finale della terza edizione della manifestazione velistica Licata Travele e Saporia. A moderare i lavori il giornalista Angelo Augusto, presenti le associazioni che hanno preso parte in vari modi alla manifestazione. A commentare l'esito di Licata Travele e Saporia è stato il primo cittadino Angelo Cambià. Abbiamo movimentato e riacceso la città e mi piace dirlo in un periodo in cui solitamente la città si spegne perché per un nostro atteggiamento passato il ferragosto ci proiettiamo verso dei mesi bui, scuri nella nostra città. L'obiettivo era destagionalizzare da un lato e proporre quell'evento che unisse le due grandi peculiarità del nostro territorio che sono il mare, le coste, l'enogastronomia per riaccendere e riattivare e ravvivare il nostro centro storico. L'evento è stato seguito, c'era un tema molto importante tra l'altro che è quello dell'integrazione tra i popoli e l'accoglienza. Infatti ogni barca da regata ha ospitato un migrante a bordo e devo dire che c'è stata un'attenzione anche dei media a livello nazionale. È passata un'immagine positiva della nostra città e quindi siamo ben felici, contenti ed orgogliosi.